Pronto? Sì, sono Giulio Faleni, chiamo per la Villa al Mare, vedo che è stata appena messa in vendita. La voglio vedere? Ha detto la voglio vedere o la vorrei vedere per favore? A sabato va bene? Lei è di sinistra. Io se si presentasse Corto Maltese alle elezioni lo voterai subito. Io ho il Conan il Barbaro. E Conan è fascista. Crede nel futuro. Mi ami ancora? Certo che ti amo amore, io ti amo sempre. Sono la donna della tua vita! Sì! Lui è di destra. Tutto a posto col futuro sindaco? Un coglione. Quello consegna la città gli zingari e i centri sociali. È un tradizionalista. È vero che in Russia i bambini mangiavano i comunisti? Magari è il contrario, no? Ecco, mi sembrava strano che ci avessero le bambini così feroci. Secondo te Marco Travaglio venderebbe il mio posto? È presso. Finto intelligente, finto comunista e di certo frigida. Ma quando gli colpirà la passione sarà difficile sapere da che parte stare. O se ti rimasti tu e alcuni talebani a credere ancora a cose tipo destra e sinistra. Fai molta attenzione. C'è il rischio che quella là ti faccia diventare un essere umano. Ti sei innamorata di uno stronzo. E questi libri li hai scritti tutti, tutti tu? Eh sì. Tutti uguali, uguali? Ma mia, è una passione inquietante, Martina. È una passione sinistra. Non si ripeterà più. Chiuso. 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 E voglio provare a essere come una di quelle che piacciono a loro. Vai Nina, buona fortuna. Allora, economia, libertà o uguaglianza? Libertà. Paese emergenti. Bombardare e poi ricostruire. Eroi. Briatore, Chuck Norris, Topolina. Cosa mangi se hai fan? Il kebab, vi va? No che la mangi il kebab! Tu mangi il sushi! Tu mangi il sushi! Il kebab è di sinistra, il sushi è di destra! Ce la faremo male! Basta, sinistra, basta, sinistra, basta, sinistra, basta, 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 basta Grazie a tutti.